Valentino Generini, anziano titolare di un'agenzia marittima di Taranto, un signore d'altri tempi, persona notissima in città, che malgrado la sua veneranda età continua a lavorare. Ogni giorno è nel suo ufficio di Corso Vittorio Emanuele II, il lungomare di Città Vecchia, ed ogni giorno, ormai da tempo, Valentino Generini saluta i gabbiani, che al suo cenno accorrono numerosi per ricambiare. È un fenomeno curioso, unico. In creduli gli abbiamo fatto ripetere più volte il saluto. E ogni volta i gabbiani sono accorsi, anche quando il cavaliere Don Valentino si è affacciato al balcone della sede della sua agenzia, oppure quando gli abbiamo chiesto di fare una passeggiata sul lungomare. I gabbiani lo hanno accompagnato. Davvero singolare, quasi da non crederci, ma le immagini sono eloquenti. Valentino Gennarini, persona scevra da ogni protagonismo, non vuole rilasciare interviste, ma ha concesso a noi del TG Norba questa piccola dimostrazione di come si può parlare anche con i gabbiani.